Ciao ragazzi qui l'Elex bentornati sul mio canale ed eccomi qui ragazzi oggi con una nuova challenge Perciò oggi ragazzi siamo qui per fare la nostra terza crossbar challenge ragazzi come vedete siamo a tre settesimi Sono l'unico? Eh io e io Vabbè ok gara Comunque ragazzi le regole sono sempre le stesse facciamo 5 tiri a testa chi fa più crossbar chi vince Ricordiamo che il primo video l'ho vinto tu, il secondo l'avevo vinto io quindi ragazzi questo sarà il video decisivo Chi vince questo? Vince tutto, cioè chi vince questo vince tutto, questa è la bella ok? Ragazzi su con il like mi raccomando e niente cominciamo? Sì Cominciamo Ok ragazzi inizia lui perché l'ultima volta ho vinto io Vediamo da qua vuoi tirare? Qua c'è la ponte di merda Eh questa di merda Quasi incrocio ragazzi quasi incrocio Eh super ragazzi Che filo di merda Ok ragazzi secondo tiro di jarricks Attenzione La sua rincorsa ubriaca E non ce la fa ragazzi Sì Un po' partager di merda Oh mio dio di Lere E non ce la fa ragazzi Gobbo Ok ragazzi terzo tiro di jerry Palo ma non è il palo che serviva Poi Annaggia la mk Quarto tiro di jerryx Ah Ma guarda il tiro di mk Ma lui ancora di più Si ma papi è la tua parte vicino Tiro alla Roberto Carlos Non penso che servirà a questo problema Ultimo tiro di Gerricks E poi ci sarà l'ultimo vino Se non li azzecchiamo Si va a oltranza poi Vai Oh Quasi Ok ragazzi ultimo tiro per me Vediamo un po' cosa riesco a fare Lo sai che ce l'ho fatto vinto vero? No Non devi farlo Non devi farlo Te lo impedisco Te lo impedisco Ehi Ragazzi si va ad oltranza Oh si Continua eh Sesto tiro di Gerricks Wow La voglio rivedere Fabio Va vai Va vai Questa è la prometta E' morto E' morto occorre a farc peng coal! Oti a teia sua No Porto Magana Karri Papi Grazie Per Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.